In occasione del sesto raduno della Federazione Italiana Sporti Invernali a Selva di Gardena, il Presidente Onorevole Renato Ricci ha inaugurato, unitamente al Prefetto Sua Eccellenza Mastro Mattei, due nuove moderne slittovie che risolvono il problema turistico della Val Gardena, ponendola in primo piano tra le stazioni internazionali di diporti invernali. La più importante è quella del Sasso Lungo, che supera in soli 7 minuti e mezzo il dislivello di 500 metri, dalla stazione a valle a quella a monte, dove 20 diversi itinerari di varia difficoltà e pendenza si aprono agli sciatori. A quota 2175 sul Ciampinoi, in mezzo allo scenario incantevole delle Dolomiti Gardanesi, ha avuto luogo la cerimonia augurale del battesimo. Grazie a tutti!